però lascia stare le cose da bimbo vabbè se senti i passi sono botte eccolo infatti eccolo terra pure sono testa di cazzo da me? eccolo eccolo si no t'ha ammazzato? è un botte di merda eh ma che botte? è un botte dove stai? ma che botte? botte il cazzo era una pippa? era una pippa ma non era un bot non c'aveva materiali mo' per chiudere è rimasto un culato lì dentro non sapeva che fa però non era un bot e comunque ora vado a luttare gente qua da me? bot? no gente non so a volte arrivo arrivo io mi vedo eh? è l'ammazzata qui davanti a me corri corri mi ha sentito cavolo per fortuna che sei arrivato Jack un lama lo devo beccato devo beccato devo beccato devo beccato senti che casino ma dove cazzo? eh io non c'ho armi buone eh io non è che sto bene vai sbrigati sbrigati che qua uno a chi stava a sparare? a chi stava a sparare? vedi a chi stava a sparare? ah io c'ho 700 di tutto vuoi qualcosa? c'ho 0 di tutto mettete dentro questa cosa mettete dentro non c'è spuglio c'è spuglio qua allora dividi chi è godi va basta oh basta oh dai rotto il cazzo il resto te lo devi guadagnare tu mi fai vetta ecco! 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 è uno solo? ce l'ho? c'ho due! so due una terra si passato ce l'ho qui io lo reggo ho preso un bianco e bianchissimo lo so che bianco questo a cura questo a sopra ho l'ho cascato e poi sei troppo su sei troppo su non te posso aiutare cazzo vai scendi è sceso ok ma qua si è eliminato c'è gente ancora qui occhio eh c'ho avuto di vita andrea curate c'ho avuto di vita oh la caputana di quanto mi sono saltato dove stai? so ecco non li ho tirasi e non puoi fa niente? si eh se io la fai ripiame sulle spalle e gli ho dovuto tirare pure mi missi non so manco qual è il bottone per chi ha tirare le spalle vai si arriveremo no e come faccio alla sciaccia? non ci arrivo andrà tu no? ah mi dispiace abbiamo la scheda no posso via la scheda? si mi pare una cosa un po' da non fare comunque vabbè io dovrebbe sta al fordonte dove? cazzo lo sai che mi ha fregato un altro lama ma vaffanculo merda si si ma perché ma perché sennò su ma lascia perdere ma pure che vinco da solo che partita è? mentre se c'è la faccia verso a tattesimo un due fai però vedi stanno tutti lì già eh appunto vabbè ma tanto quello sta anfrattato ma io vedo la movimento lì sia al furgone sia al lato stanno vedi lì no al furgone non vedo che niente movimento si si vedo tutto pulito c'è uno qui lascialo perdere qui senti che te posso fare per curare qualcosa? io ce lo sparabende non scudo vuoi uno scudone? vuoi altro? chi è? guarda che c'è del loot qua in giro vedi un po' se neanche da faccio anche oh cavolo bravo lo vedo oh non me lo risetta porto oddio che vuoi faccatsa Oh Dai che sono distratti vai Non apri, non apri, non apri Aprite qua, aprite qua Ecco hanno aperto loro Attento Ce l'hai i materiali per chiudere? Sì Attento agli altri che te sparano Viacqua? Viacqua sotto da me, viacqua da me Lo sai C'è gente qua sopra Occhio non sali Vieni Qua dammi Da dove siamo enterati però Ci aspettano davanti Attento ai cecchini là in fondo Lascialo, lascialo Lascia un botto È un botto Lascialo, lascialo sta È un botto Lascialo sta No, no, no Siamo tu contro tu Dove? Dovamo arrivar là su quel loot Fra? Mi servono colti di AR Colti di AR Questi? Bellissimo Non li vedo Ciao Sì dai andiamo verso quel loot Verso quel loot Ci serve Dai coperto ma andiamo Sanno là dentro? Sì lo so Ci hanno paura Quindi andiamo al loot Piamolo Eccoli stanno a salire Fra Occhio salgono Tranquillo Sì Quello non spara più Corbazuka Occhio eh 105 E io ho levato 105 corcecchino Attento al bazzuka eh Lo rusci Lo rasci? Sì vai Vieni bello di mamma Vieni bello di mamma Rialzati Rialzati Lazzaro Come io lo date Tu belle Pompate in faccia Eh Statistica partita Oh 5 kill Eguagliamo il record Stagionale Con Boboretto Vuoi fare un commento Di fine partita? No Vieni bello di mamma Vieni bello di mamma